Situata a Cadro, a pochi minuti dal centro di Lugano, nel canton Ticino, sorge la nuovissima Residenza Luca, raggiungibile in soli 5 minuti dalla Galleria del Vedeggio, nuova uscita autostradale. Il progetto prevede la realizzazione di 6 appartamenti, divisi tra secondo e terzo livello, mentre sul quarto livello troviamo tre ville, con la possibilità di realizzare un'ampia piscina e prendi sole sul tetto, per godersi in totale relax la bellissima vista sulla città e sul lago di Lugano. Inoltre, ogni appartamento è dotato di spaziose terrazze, un grande giardino e lavanderie personali. Le ampie vetrate garantiscono un'illuminazione totale e un'imperdibile vista. Residenza Luca, privacy, tranquillità e bellezza, su misura per voi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS